Dall'altra parte io vedo l'ashline che ogni volta va in tv e dice dietro Giorgio è niente, dietro Giorgio è niente, questo è lo suo slogan, ma per quale motivo una persona dovrebbe votare il Partito Democratico oggi? Una persona che ha delle problematiche economiche, problematiche sociali, che vede la situazione catastrofica del sistema sanitario, perché dovrebbe votare il Partito Democratico?